ecco qui il nuovo video del metal detector usato agosto 2024 qui c'è una bella selezione di metal detector usati economici a professionali a militare a magnetometro e adesso lo vediamo cominciamo col metal detector più piccolino al mondo guardate qua sta nel palmo della mano questa è la centralina ricevente e qui c'è la sua bobina ricevente che è circa una 11 pollici e il cavetto di carica della bobina perché è una bobina che trasmette a radio bt bluetooth guardate che spettacolo 250 euro questo è quello che ho usato da fare il video test al banco e nel terreno e come prestazioni se andate a vedere il video alla massima potenza che risulta essere un po disturbato sente segnali di moneta fino a circa 40 centimetri regolato a una stabilità audibile buona cioè che non da farsi segnali trilli la moneta la rileva circa 30 centimetri anche come velocità ha una bella velocità di ricoveri direi per uno appassionato di metal detector che dice voglio il metal detectorino più piccolo al mondo direi che questo è lui bobina metal detectorino qui la bobina può essere collegata anche un cellulare trasmette il bluetooth il segnale bluetooth a un cellulare semplicemente caricando l'applicazione al magazzino applicazioni che trovate in internet 250 euro proseguendo con il metal detector qui adesso tocca a quello economico un cinesone di importazione l'ho preso da fare anche questo i test al banco guardate che bobinona che ha quadrata stelo telescopico in plastica anche questo il bracciolo è regolabile di estensione c'è un bel display che dice il vdi ha qualche frequenza programmabile può fare anche il bilanciamento del terreno e costa 100 euro poi abbiamo un suo collega sempre di importazione cinesone a lancetta 50 euro questo la bobina è più piccola poi andiamo a un metal detector di epoca intermedia questo è un bellissimo garret cx plus ed è la prima serie la serie cx cx2 è la prima serie di metal detector plastici in abs della garret perché vi ricordate che prima li faceva in lamiera questo bellissimo cx plus viene 180 euro funziona c'ha la sua bella bobina da 20 centimetri e lo sapete che tutta la serie cx si può aggiungere collegare i padelloni da profondità per far la ricerca in profondità questo è corredato della sua bobina originale se trovate in giro dei padelloni avete un metal detector completo passiamo al super metal detector analogico guardate che serie di comandi che ha questo è il diptec vista x corredato della bobina gigante più potente che deve essere una 13 per 15 o qualcosa del genere aumenta la profondità di ricerca di un buon 20 30 per cento rispetto a quello originale alla 9 o mi sembra che anche la 11 questa è più grande la più potente che si può mettere ci sono anche le prove e test che ho fatto in questo canale e questo bellissimo diptec vista x lo cedo a 300 euro qui abbiamo un super metal detector militare un cea cmd con aste telescopica tutte le regolazioni del caso vedete deve essere anche impermeabile guardate che apertura anatomica si riduce a un piccolo scatolotto che sto dentro nel suo valigiotto costa 400 euro questo è un super metal detector perché un pulsing duttion ad alta sensibilità e lo sapete che i pulsing duttion sono molto sensibili molto potenti questo è militare deve sentire i micro meccaniche delle mine va bene anche da cercare esempio delle monete va bene da un po di tutti i tipi di ricerca ovvio che è un all metal sente tutto però nei terreni molto duri molto ferrosi questo lavora bene 400 euro poi qui cosa abbiamo abbiamo un bellissimo magnetometro su vacuo a 100 metri acqua scan 1000 euro questo è un magnetometro rileva praticamente il campo magnetico terrestre ed è subacqueo per sommo satori già la cuffia di scorta come ha anche dove è finito il suo vibratorino per l'orecchio proprio da sommo satori da mettere fra la muta che sia nella testa come passa montagna e l'orecchio che fa da vibrazione invece questa è la cuffia normale questo vibratorino quello per elevate profondità 1000 euro costerebbe un bel po di più qui abbiamo metal detector da sicurezza quello della ceia che costerebbe quasi 400 euro per la sicurezza controllo accessi nelle discoteche campi di calcio manifestazioni sportive se uno deve controllare verificare degli accessi in dei supermercati incontri musicali concerti eccetera 90 euro 90 euro lo posso dare anche a noleggio e ne ho due questo è sempre un altro metal detectorino che ha la stessa funzione tipo spadino e costa 90 euro anche lui sempre stessa funzione di sicurezza una bella serie di metallo tetto da spendere poco da spendere un po di più da professionale a militare a ricerche subacquee a scansione per sicurezza oltretutto quello che vi ho fatto vedere per primo il metal detectorino più piccolo al mondo guardate i video che ho fatto che sono qui nel canale se la cava bene è un gioiellino spettacolare se uno vuole metal detector un po particolari quello è uno di loro e qui abbiamo lo scanner per il muro che prima di fare dei fori sono deve attaccare delle mensole o mettere dei supporti per passarvi con dei tubi o dei cavi o delle canalette questo metal detector scansionatore del muro se c'è qualcosa sotto tipo di tubi cavi tubazioni eccetera per evitare di forarci di sopra con la punta questo sono il suo pane servono proprio per questa attività di verificare il muro o pareti o pavimenti prima di forarli o di scalplinarli col metallo pneumatico ci si dà una scansionato con questo qui e dopo si vede se c'è qualcosa sotto vedete qui c'è un po di esempio e costa 30 euro bene ragazzi vi ho fatto vedere la scherrellata dei metal detector usati del mese di agosto se qualcuno gli interessa qualche metal detector mi contattate li trovate anche sito www.metaldetector24.com se invece volete dei metal detector nuovi o normali o da profondità o subacquei o per ricerca generica nel campo o se uno deve andare in battiglia io con la mia esperienza di quasi 30 anni di vendita di metal detector so consigliarvi bene specialmente guardando pensando alla situazione del prezzo consigliandovi un ottimo metallo detector prezzo qualità potenza prestazioni e funzioni ovvio che se non lo trovate di vostra scelta fra quello usato dove pagate meno ve lo do nuovo come vi ho detto con la mia esperienza di quasi 30 anni di vendita vi so consigliare bene se andate in acqua in subacquea in battigia se vi serve da profondità se vi servono degli apparecchi speciali specifici anche per fare esempio la ricerca dei vuoti degli scavi con lo scavatore che magari sotto ci sono delle linee ci sono delle tubazioni hai capito mi contattate e dopo vi consiglio qual è il migliore per il vostro lavoro la vostra attività qui tra l'altro c'è una trasmettente che va abbinata alla ricevente ed è un cerca servizi un cerca sotto servizi tubi tubazioni dopo faremo qualche interessante video anche per questo bene e allora saluto tutti quanti e al prossimo video e guardate il sito metalldetector24.com dove trovate i migliori metalldetector prezzo qualità funzioni ottima esperienza vi so consigliare al meglio da 30 anni di esperienza nel settore ciao a tutti